Presentato in biblioteca il progetto Letture senza barriere, che ha rivoluzionato la sezione ragazzi della Biblioteca Civica in chiave inclusiva. Un lungo percorso che ha portato al ripensamento dello spazio, all'acquisto di libri e supporti di lettura per bambini con difficoltà fisiche o cognitive, ma anche ad incontri formativi e letture per il personale interno, familiari, insegnanti ed educatori, organizzati con esperti del settore. Una rete che si è creata tra comune, fondazioni e associazioni del tessuto sociale cittadino per permettere l'inclusione nel mondo della lettura, abbattendo di fatto le barriere cognitive, stimolando il piacere della lettura, favorendo la formazione e la crescita della persona in un luogo amico, facilmente accessibile dove poter coltivare i propri interessi e le proprie relazioni. Letture senza barriere cos'è? È un progetto che consente ai bambini con difficoltà, disabilità, cecità, spettro dell'autismo, dislessia, di poter leggere tranquillamente. Come? Abbiamo acquistato degli ausili e dei libri speciali, libri in braille, audioguide e quant'altro, ma non solo, abbiamo fatto e faremo anche delle attività, laboratori, incontri di lettura. Io credo che questa iniziativa sia il fiore all'occhiello della nostra biblioteca che dimostra che questo è uno spazio vivo, aperto, dinamico e soprattutto all'avanguardia, capace di unire cultura, lettura e sociale.